ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti su gioca con mike no oggi niente fortnite oggi niente fortnite oggi giochiamo the land of pain usa vzad per muoverti spazio per saltare c per ok accovacciarti c perfetto ragazzi niente fortnite oggi giochiamo il gioco d'orrore aspetta written and created by alessandro guzzo ragazzi alessandro guzzo ha fatto questo gioco da solo credo che l'ha fatto da solo musica cosa e guardate che grafica ragazzi guardate ragazzi che grafica l'ha fatto solo il gioco ragazzi non è un albero aspetta devo prendere materiale ah no non è fortnite bella bella allora ragazzi corriamo un po' vediamo ragazzi questo è solo una demo voglio provare questo gioco vediamo com'è se mi piace me lo compro naturalmente posso andare anche ah si è open world posso andare anche nel bosco perfetto naturalmente ci spara un po' di taglie se no qua state solo a vedere un po' di natura che è bellissima naturalmente vediamo ma questo è il paradiso no sarà diciamo qualche montagna in america dovrebbe essere belli madonna ragazzi 20 j per aprire e chiudere il diaro ok ecco qua ah ritorno alla vecchia batta batta o baita che vecchia baita finalmente dopo due ore di cammino nel bosco sono arrivato l'autunno sta arrivando e l'aria è già piuttosto fredda da qui posso vedere la mia vecchia baita ah ok baita che cosa è baita allora buh non lo so giù in fondo alla valle è un'eredità del mio povero vecchio ah anche lui come me come me amava la natura passerò lì la notte domani mattina all'alba partirò per raggiungere la cima del monte proprio dove è situata la grande croce vicino a precipizio dall'assù il panorama sarà mozzafiato il contatto con la natura è proprio quello che mi serve per allontanare lo stress di questo periodo perfetto ragazzi e anche in italiano ecco qua sono arrivato abbiamo un sacco di regna ragazzi questo ci potrebbe servire a fortnite cavolo premi il tasto sinistro la maspera di interagire con gli oggetti ah legna non ho bisogno di questa legna la baita ne avevo lasciato non sufficiente vabbè ok ok non mi serve la legna bastone da baseball non li serve legna tutto legna 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 cazzo devo interagire qua ragazzi ragazzi guardate sempre vero beh nella spiegazione su steam c'era scritto che era un gioco d'orrore ragazzi ma fino adesso non trovo niente di orrore madonna la m'ho fatto già spaventare cavolo è ah un ramo un albero ah qua la mia casetta premo il tasto sinistro la maspera di interagire ok questo già lo so ah lasciamo sta matello non posso prenderlo candela non posso prendere cammino l'atomato piuttosto fa farei bene ad accendere il fuoco per riscaldare l'ambiente l'ultima volta avevo lasciato il cammino pronto devo solo trovare dei fiammiferi ok fiammiferi ah perfetto trovo dei fiammiferi secchio prima di prendere l'acqua farei bene ad accendere il cammino ok tranquillo cammino accendiamo il cammino in the land of pain ah aspettate un po' ah abbiamo un po' di caldo adesso che faccio l'acqua sicuramente devo prendere l'acqua guarda ecco lo sapevo ragazzi sono io il mago merlino so tutto devo prendere l'acqua a fiume prendere l'acqua a fiume e te che cazzo ti è successo ah credo che qua si c'è la casetta e il pozzo anche l'audio avete visto c'è qualcosa qua no ecco qua il pozzo questa acqua sarà sicuramente pulita ragazzi ma sicuramente bene l'ho riempito dovremmo passarmi questa notte per bere e lavarmi si credo che ho tutto andiamo back to the house non mi fido ragazzi sembra un gioco d'orrore che è sta cosa mio dio che diavolo è quella cosa per prima cosa vado in casa non mi fido ma che sono alieni ah è l'acqua dove la metto chiudiamo la porta sicuramente mi devo avvicinare a sto coso no? una farfalla tocca l'oggetto lo tocco the land of pain demo ragazzi oh mio dio cosa è successo ragazzi? cosa sta succedendo? dove sono finito? non avrei dovuto toccare quella maledetta sfera esamina che cavolo è ragazzi? credo che qua inizia veramente l'orrore cosa devono sono queste enormi strutture? emanano una gran quantità di energia si ragazzo questo sono come si chiama in italiano? le cose tesla di tesla che ha detto? ah la stessa cosa vabbè si ripete è chiuso con un catenaccio sono bloccato qui dentro ragazzi come faccio ad uscire? ho ancora il secchio d'acqua? questa è una piattaforma collegata a dei grossi cavi che provengono dal terreno oh cazzo tutti i cavi veramente usa ah un sasso posso provare ad usarlo per spezzare il lucchetto della gabbia ah ho preso un sasso ok cancello ok il tempo già non mi piace ragazzi diario un luogo sconosciuto cos'era quell'inquietante oggetto sferico sembrava una creazione fatta da dio in persona appena l'ho toccato ho visto una forte luce bianca e il mondo intorno a me ha cominciato a dis aspetta a distorcersi e piegarsi su se stesso ma scrivi più bello cavolo ho provato un terrore indescrivibile quanto per un istante ho avuto la sensazione di uscire dal mio corpo il terrore è stato così forte che i sensi mi hanno quasi abbandonato appena ho riaperto gli occhi mi sono ritrovato in un altro luogo all'interno di una gabbia fortunatamente sono riuscito ad uscire ma cosa è successo veramente dove sono finito non riconosco questo posto devo assolutamente cercare aiuto e capire cosa è successo si ragazzi credo che finiamo qua l'episodo numero 1 della demo The Land of Pain finiamo qua ragazzi perché adesso finisce il vero orrore spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto è solo un corto intro di questo gioco adesso inizierà sicuramente la demo durerà qualche mezz'oretta spero ma se mi compro il gioco intero ci farò naturalmente la serie comunque ragazzi come sempre mettete un bel like iscrivetevi non vi dimenticate Fortnite da Life di Venerdì ragazzi come sempre un bel like condividete il video fate venire amici fate vedere i vostri amici ragazzi ci vediamo in vostro gioca con Mike ciao a tutti ah 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 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti